il cum e il congiuntivo o cum narrativum è una subordinata polivalente che può assumere significati diversi a seconda dei contesti più spesso a valore temporale e causale ma può assumere anche valore concessivo o condizionale come faccio a capire il valore del cum più congiuntivo con quale subordinata devo tradurlo c'è un metodo che può esserti utile vediamolo insieme iam venit cornelia ecco che arriva cornelia grida uno degli amici di cesare cum flamme umet faces procul prospiciam in prima battuta potremmo tradurre la subordinata con il cum con un gerundio vedendo io da lontano il velo e le fiaccole traduciamo cum prospiciam con il gerundio semplice perché prospiciam è un congiuntivo presente tra la principale iam venit cornelia e la subordinata con il cum c'è un rapporto di contemporaneità a questo punto posso perfezionare la traduzione specificando il valore della subordinata con il cum che ho tradotto nella forma implicita con il gerundio nella vignetta è evidente che tra la subordinata con il cum e la principale iam venit c'è un rapporto di causa l'amico può segnalare l'arrivo di cornelia iam venit cornelia perché vede da lontano il velo e le fiaccole consideriamo quest'altro esempio all'arrivo del pontefice massimo con il pane di farro l'amico rivolto a cesare afferma confarreari debes devi sposarti con il rito della confarreatio cumantea flamene di alis designatus sis qui non abbiamo un presente congiuntivo ma un congiuntivo perfetto passivo designatus sis che indica un'azione che è avvenuta prima di quella della principale confarreari debes in prima battuta quindi non dovrò tradurre la subordinata con il cum con un gerundio semplice ma con un gerundio passato o composto essendo stato designato flamen di alis a questo punto esattamente come nel caso precedente posso perfezionare la traduzione specificando il valore della subordinata con il cum e rendendo esplicita la forma implicita al gerundio il valore anche in questo caso sarà causale devi sposarti con il rito della confarreatio poiché prima sei stato designato flamen di alis